I amici Io sono la bambina, io lo so Io sono la sua Ehm, la manda Io sono la mia casa E qui si fa un caccio E qui si fa un caccio E se vuoi metterlo alle coste Non vuoi vedere Non vuoi vedere Poi se vuoi vedere non è che ne abbiamo abitudini o potremmo ora rispettando giocati si lascia dicendo che sono dietro ai siti che non vuole dire non è il suo grado Sì. 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 E' un'altra cosa diventata. Dovamo aspettare? Vero? Sì. 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 Se sono i uova. Sìoo. Lo dà la minuta c'è… buona buona buona